Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianluca e oggi siamo su Minecraft Un attimo però che sto così Non so come ho fatto a registrare Allora oggi vorrei farvi vedere un po' le mie costruzioni Allora iniziamo da fuori eh Un attimo adesso bello Allora usciamo innanzitutto Dalla porta Allora questo è l'entrata Ho fatto tutto circondato da mura Adesso se riuscissi ad entrare Vi faccio vedere l'interno Questo è l'interno Questa è casa mia E questa è la casa dei villagers Che sono i miei cittadini Praticamente non sapevo chi mettere Adesso questo è Esci da casa mia Vabbè poi io li faccio uscire Questo è il divano col camionetto Questa è la cucina Questa è la cucina E qua dentro ci sono i letti Guardate Ok Ditemi anche se volete Serie su Minecraft Dove facciamo Dove vi faccio vedere come costruisco Eccetera Questo è il piano del mio conquilino Che è un mio amico Lo ospito qua dentro Quando viene a giocare Questa è la sua tavola La cesta Questa è la camera da letta Questa è la cucina per il cane Anche se non sembra Eccolo qua Adesso vi faccio vedere Cosa ho creato Che cazzo Si è pagato il gioco Ah no Scusate Scendiamo Entriamo Adesso andiamo Dentro il retro Guardate Questo è il mio Campo da calcio Le panchine Questi sono i giocatori Lui è Messi Lui è Ronaldo Questa è una capra Questi sono gli altri giocatori In panchina Vabbè L'ho messo giusto per Eccolo il campo Guardate Ho usato lana E La terra Con l'erba E adesso Vi faccio vedere Un poco La piscina Andiamo a vedere Guardate qua Quante cose Ho sprecato Per fare queste Quanti diamanti Ho sprecato Questa è la piscina Tutta Diamante Sono stato Trent'anni Miniera Per farla Questa è la piscina Con le zucche No Autosalvataggio Tra 3 3 2 1 0 Scusate per l'interruzione Tra l'altro Sto registrando È una parte Un po' Diversa E Ho fatto i salti mortali Per piazzare la telecamera Dove sta ora Questa è la piscina Stavo dicendo Ho messo delle zucche Con l'alice sotto Per non far uscire i mostri Eccetera Fatto tutto in vetro E' qui sopra Questa Guardate Tutta la terra Andiamo a vedere Cosa c'è Ah tra l'altro Guardate là Non so se si vede bene Il mio nome E adesso Andiamo a vedere Guardate Per questo piano Ho fatto tipo Un passaggio segreto Allora saliamo Ed eccoci Qua Qui vorrei Costruire Praticamente Un La fattoria Ma Però è da finire Se non c'è Ma troppo di registrazione Vi faccio vedere E anche La costruzione Anzi Facciamo che carico Un altro video Oggi pomeriggio E' ora Scivolata Per oggi Credo sia tutto Bella ragazza Al prossimo video Buop Sì Ciao